Ben ritrovati su Ad Maiora Vertite. Vi ricordo, prima di cominciare, che se volete sostenere il canale di Ad Maiora Vertite, di mettere un placet a questo video, di scrivere un commento e di condividerlo con i vostri amici. Infatti se non lo condividete loro non lo vedranno mai e in ogni caso l'aumento di visibilità appunto può sostenere questo lavoro che noi facciamo fondamentalmente gratuitamente. Ma veniamo al Flamen di Alice. Questa è la prima volta che trattiamo come argomento un sacerdozio e andiamo a trattare uno dei più importanti di Roma, quello del Flamine di Giove, il Flamen di Alice. Questo sacerdozio è un sacerdozio antichissimo, fa parte, forse il più importante, dei tre Flamini maggiori che sono appunto il Flamen di Alice, il Flamine di Marte e il Flamine di Quirino. Questi tre sacerdozi rappresentano le tre divinità principali della religione romana arcaica, la famosa triade arcaica, della quale ne abbiamo parlato in un video precedente. Perciò risulta essere particolarmente importante e il termine Flamen di Alice addirittura è legato a quello che doveva essere il nome più antico di Giove, legato alla radice indoeuropea di Eu, da cui di Alice, della quale però rimase solamente Yowis. Bene, insomma, questo sacerdote è particolarmente importante per cui iniziamo subito ad approfondire il tema. Sigla! La caratteristica più evidente del Flamen di Alice all'esterno è l'enorme quantità di prescrizioni che doveva rispettare, che furono anche la causa della caduta in disuso del suo stesso sacerdozio durante la Tarda Repubblica. Per prima cosa non poteva mai allontanarsi dalla sua casa per più di tre notti e non poteva mai dormire fuori dalla città di Roma. Doveva sempre indossare il copricapo tipico in genere dei Flamini, l'Apex, un copricapo di pelle che aveva in cima un rametto di olivo a cui era legato un filo di lana. Doveva sempre presentarsi in pubblico con i paramenti sacri e non poteva mai presentarsi nudo davanti alla divinità. I piedi dovevano essere sempre attaccati al suolo, motivo per cui le gambe del letto dove dormiva venivano ricoperte di terra. Non poteva mai avere la vita cinta da una cintura e in generale alcun nodo, tanto che persino gli anelli che indossava dovevano essere aperti. Per lui ogni giorno risultava essere un giorno sacro, per cui era in uno stato diciamo di continua purificazione e non poteva entrare in contatto con nulla che fosse contaminato, per cui non poteva assistere ai roghi funebri, non poteva vedere un cadavere, non poteva nemmeno osservare una capra. Sulla questione della capra e della purificazione ne abbiamo parlato nel video sui lupercali a febbraio. Non doveva entrare in contatto con la carne cruda e non poteva assistere a apparati militari. Quindi insomma era una vita veramente difficile. In compenso aveva moltissimi privilegi. Aveva il diritto di portare con sé la sella curule, di indossare la toga pretesta, quella toga che era tipica delle massime cariche magistraturali. Poteva assistere alle sedute del senato e era l'unico flamine che aveva diritto ad un lettore. Era veramente un sacerdozio particolare. Aveva una moglie naturalmente come tutti i flamini, una flaminica, anche perché termine sine qua non per diventare flamini vi era il fatto di sposarsi con il rito della conferrazio, un antico rito matrimoniale riservato ai patrizi e che era inscindibile. Veniva fatto alla presenza del pontepice massimo. Si traeva l'auspicio prima di trarlo. Insomma era un rito molto complesso e soprattutto era inscindibile, motivo per il quale lentamente cadrà in disuso. E questo fu uno dei problemi che toccarono il flamen di Alice. In ogni caso appunto era una vita molto rigida, anche perché si era flamini di Alice a vita. E questa fu forse una delle motivazioni principali per il fatto che cadde in disuso perché chi voleva guadagnare maggior potere e maggiori interessi e intraprendere la via del flamen di Alice non li avrebbe portati da nessuna parte. Anche per questo stesso motivo lentamente a livello di importanza, sebbene inizialmente il flamen di Alice fosse molto più importante del pontepice massimo del rex sacrificalis, lentamente sarà il pontepice massimo ad assumere maggior importanza proprio per motivi e interessi di carattere politico. E questa è anche una diciamo delle dimostrazioni del processo di decadenza dei costumi che avviene durante la tarda repubblica e che poi prosegue in età imperiale, cioè non è che le cose finiscono con l'inizio dell'età augustea. Riguardo l'importanza, ecco la sua importanza originariamente era strettamente legata alla regalità, una regalità che comunque trascende l'entrata, l'inizio dell'età repubblicana, perché comunque questa regalità qui è a livello simbolico, è presente comunque nel ruolo, nel potere di Giove e nel suo legame con Marte e Quirino e quindi perdura anche durante la repubblica. Questa funzione di regalità era però condivisa con il rex sacrificalis. Qual è la differenza fra i due? Il flamene di Ale mantiene un contatto e un legame con Giove, continuo e perpetuo. Questa è la motivazione di tutte quante le sue prescrizioni e anche i suoi privilegi. Lo stesso fatto di dover rimanere sempre in contatto con la terra è abbastanza esplicativo, nel senso che da un lato lui è sempre in contatto con il divino, motivo per cui deve rispettare una serie di norme che normalmente vengono rispettate solo all'interno dei riti, la mancanza di anelli e di nodi o di cinture, oppure il fatto che i suoi siano giorni che hanno un valore, un carattere religioso e dall'altro lato elementi invece che lo legano alla terra, alla concretezza della materia, motivo per cui appunto i piedi sempre a contatto al suolo, al punto che i piedi del letto venivano coperti di terra. Per cui ecco, lui alla fine si trova ad essere a tutti gli effetti un tramite, infatti viene normalmente definito come un simulacro vivente di Giove, a differenza sua invece il rex sacrorum o rex sacrificalis è un sostituto del re nei sacrifici che appunto prima erano di competenza regale, infatti continua a rimanere ad essere un rex, per cui vedete che sono due piani della regalità distinti e separati e che sopravvivono e perdurano ancora in età repubblicana. Il fatto che il flamen di Alice risulti essere un simulacro vivente di Giove è spiegabile anche col fatto che per esempio lui non poteva essere vincolato in alcun modo, non solo come vi ho detto prima per la cintura eccetera, ma non poteva neanche giurare. Perché? Perché un suo giuramento, una sua promessa avrebbe legato non solo lui stesso ma anche il Giove che è presente a Roma, per cui la garanzia dell'ordine all'interno di Roma, anche per questo lui non può uscire e dormire fuori dalla città perché significherebbe che Giove se ne va. Per cui vedete che tutti questi elementi vanno a riconfermare questo suo aspetto che è veramente un qualcosa di arcaico, è lontano dal normale concetto del sacerdote che va e prega presso il Tempio. È qualcosa che risulta, sembrerebbe quasi un'eredità preistorica, permettetemi forse di esagerare con questa considerazione, ma ecco appunto un individuo che ha tutta una serie di privilegi e di prescrizioni in virtù del fatto che incarna una divinità è qualcosa di molto molto lontano rispetto all'immagine appunto del sacerdote che invece è un elemento staccato dalla divinità ma che ha la capacità di entrarvi in contatto. Ora il flamine di Ale appare in tutti quanti gli eventi nei quali è necessaria la presenza di Giove. Tra questi abbiamo visto per esempio la sua presenza di Lupercalia, è presente in diversi riti della Roma più arcaica ed è presente anche ai Vinalia. Il caso di Vinalia è abbastanza interessante perché vi è tutta una diatriba in età tardo-repubblicana su quale sia la divinità a cui è sacra questa festa. Cicerone diciamo in rappresentanza del patriziato sostiene che fosse una festa sacra a Giove mentre invece il popolo riteneva che fosse sacro a Venere. Sulla carta quello che riporta Cicerone sembrerebbe la versione corretta proprio per il legame tra Giove e il vino e per il fatto lui giustifica questo fraintendimento da parte della plebe per il fatto che quello stesso giorno venne dedicato un tempio a Venere. Ma d'altro canto noi sappiamo che a Venere sono sacri tutti i venenia per cui le pozioni ed era considerato un venenum anche il vino per cui ecco si arriva ad avere questa 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 diatriba. Ad ogni modo al rito dei Vinalia presenzia anche Flamendialis il quale il quale raccoglie un grappolo d'uva e lo offriva a Giove. Questa cosa delle primizie non ci deve stupire è una cosa che accade regolarmente nella religione romana. Pensiamo ad esempio alle vestali che nei giorni Alternia e Lemuria raccolgono la primizia del raccolto per l'appunto e lo utilizzano per fare la mola salsa e altri esempi di questo tipo ne abbiamo per cui insomma è è abbastanza una costante nella religione romana quella dell'offerta delle primizie ma nel nostro caso diventa particolarmente interessante proprio per il significato che ha il vino in toto. Il vino è considerato il sangue della terra è un sostitutivo del sangue ma il vino è anche una bevanda magica una pozione come abbiamo detto prima è un venenum nel senso antico per cui non un veleno in senso stretto cioè anche però è una bevanda inebriante connessa a venere e quindi è particolarmente interessante la presenza del Flamendialis in questo contesto e in questo rito. Nella realtà non si sa molto di più su questo sacerdote così come anche si sa abbastanza poco dei tre flamini maggiori e non si sa praticamente nulla degli altri dei flamini minori si sa solamente ed è evidente che sono le divinità più arcaiche più antiche quella della Roma delle origini dei primordi e sono tutte divinità strettamente connesse al suolo all'allevamento al mondo naturale insomma non ci sono tra i flamini tutte quelle belle divinità il sole Apollo e tutte quelle divinità che poi diventeranno le divinità simbolo se vogliamo della religiosità romana e che sono state profondamente influenzate invece dalla dalla cultura greca e da un processo di importazione culturale in parte forzato e niente per cui è molto affascinante vale la pena studiarla per capire dove nasce la religiosità romana per cui dov'è il germoglio di questa religione e che è anche l'unico modo per poterla capire veramente. Allora il consiglio bibliografico di oggi io ero tentato di consigliarvi per l'ennesima volta la religione romana arcaica di Dumesil visto che abbiamo spesso fatto riferimento alla triade arcaica però non lo farò e vi consiglierò invece un altro libro sul sul mondo italico le civiltà dell'Italia antica di Ugo Di Martino naturalmente Ugo Di Martino non ha assolutamente bisogno di presentazioni il testo non è incentrato sulla religiosità ma parla anche di quello e è comunque molto interessante perché si possono vedere anche quanti elementi Roma condivideva con il resto del mondo italico e anzi che ha appreso dal mondo italico in parte se poi qualcuno di voi l'avesse preso che l'altro libro che vi ho consigliato la forza della tradizione di Torelli e lì alcuni esempi vengono riportati in merito a importazioni romane dal mondo etrusco in età estremamente arcaica. Questo comunque dicevo è un un testo diciamo generale su vari popoli dell'Italia antica e è molto interessante perché vi permette di avere un quadro un po' generale sull'argomento. Ok bene spero che anche questo video sia stato interessante e se è così mettete un placet scrivetemi tutto quello che volete nei commenti e condividetelo con i vostri amici che altrimenti non lo vedranno mai. Valete optime in pace deorum. Grazie a tutti i nostri amici.